Erdstone che mi ha chiamato quello un attimino ragazzi stiamo arrivando stiamo arrivando un attimino fortnite è cambiato è cambiato rivedete informazioni riproduci un po ci dobbiamo essere ipodigine streaming continuo un po' di là come va ragazzi mi sentite mi sentite no mi sentite prova prova ragazzi ma sente bene albert mi sa che va meglio grazie albert grazie mille per l'aiuto grazie oh albert se ti vuoi iscrivervi al canale se non sei già iscritto mi farebbe un grandissimo piacere io pensavo che giocavate a airstone no guarda abbiamo avuto questo problema di cose domani mattina giochiamo a airstone albert per cui se vuoi venire a giocare ti aspetto mai simita al canale così come vedere live domani mattina mi becchi su airstone da lì da lì per cui se vuoi passare giochi vai se vuoi mai qualche consiglio mi puoi dare ti accorgerai che quando non c'è l'audio non devi svegliarmi capito che sei tu qui l'audio tu accorgerai l'audio non è che pari da solo e non guardi appunto meno male che ti dico albert preferisci albert preferisci airstone come gioco no devi controllare cellulare si controlla si sento e finchè ce l'ho lì contro voi no io dico e beh sei tu qua devi controllare devi controllare purtroppo è un attimo è il caso di OBS fa due secondi alla puttana hai visto? per cui Albert scriviti domani mattina ci facciamo una bella parità ma bella come ti comanda perché dobbiamo andare avanti wow due occhi occhi vattene vattene aia la parte va dietro di aia ma dai allora Aston mi va ora perché sono andato sulle persone che giocano Aston ma se facciamo un po' di Aston magari Albert magari lo strebiamo dopo a Fortnite se vuoi lasciamo il titolo Fortnite ci chiamo Aston magari dai magari iscriviti e facciamo un po' di Aston dai blocco Fortnite facciamo tranquilli e facciamoci un po' di Aston dai dai facciamoci un po di arso dai dai dammi due secondi allora due secondi che lo cambio no io lo so se sto no dai dai facciamoci questo qua dai ti accontento perché sei nuovo mi fa piacere che sei passato eccoci qua vuoi finire un po di arson tu sicuro dai 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 per cui iscriviti al canale albert ti voglio accontentare anche a me piace forte che sinceramente mia che pezzo di merda la 50 50 come la folla con amici no basta ancora aspettano a morire per le tue armi c'è la che c'è un po di merda come così fai dai dai su ma così no facciamo così scusami e tu ah è vero eh ma è col giro di la concorri ma così si va così allora ma va a cagare pinkas che stronzo no uso il mio ti voglio proprio bene pinkas no voglio il mio aspetta vi tolgo questo qua vi tolgo eh vi porto il tuo eh domani solo tolgo così non vi lagga sempre vengo con quello lo voglio sempre allora dov'è il mio mago pinkas questa me la paghi eh adesso mi ho accontentato a albert oh mio dio sei un amore pinkas un amore proprio adesso vuol dire anche tu il brutto stronzo figlio di un luca allora chi? mi ha salutarmi in live che ha saluto? che ha successo? contro ma pinkas albert mi sento bene stai a rank banana no sto a rank che vivebbe albert si è vero guarda albert ho iniziato da pochissimo proprio eh ho vinto me la pena ieri gli ultimi sto giocando ma basta non capire se no sto giocando proprio da poco se no sono se no abbassi cambia la canzone e ti mangio una banana allora si pinkas ti ho guardato per disperso pensavo non ci fossi più oh mio dio non dite stavo gente pinkas è morto no veramente eravamo preoccupati che non ci fossi più pinkas tu albert che non inizia la rompere si riesca a noi si eh non lo giuro eh ho capito potete andare mai in bici ah dove andare in bici c'è caldo tu si si ti ho capito più in casa tu albert che livello stai sei molti più forze come un team io non so capace di andare in bici non riesco niente più impegnato eh ti alleni cosa c'è qua sotto sto basso basso io albert abbiamo provato a fare le sfide da 25 ma neanche neanche a morire che non riuscivamo proprio neanche andare avanti e dove eri pinkas ma via fuori da casa tua e pinkas la via per lavoro no mo che da pinkas era via per lavoro ha detto che è pinkas il benessere famiglia buongiorno a chi c'è il live ragazzi oddio mio qua si stanno stanno un lop è meglio evitare ragazzi ma non è bello ah vedi a me che cavolo vedi a te scassa a me figa non ce l'avevo ecco qua e poi ero io quello che non riuscivo a non riuscivo a non riuscivo ma è vero come l'audio si va 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 l'audio ragazzi va va l'audio allora allora tre sono belli oggi no forca l'onza sono venito e io e fai quanto te e cavolo di gridare l'hai detto bene ancora l'hai detto bene ma oh albert se se posso dimmi come faccio ci gioco volentieri certo albert a me fa piacere giocare con con chi ha pazienza di seguirmi il mio batte tag ok fai finire questa qui e ti cerco io mi chiamo sono agorano 80 se vuoi cercarmi tu io mi chiamo io mi chiamo da solo meno male vabbè sono sono malato ah meno male pinkas guarda stamattina cazzo da stamattina solo problemi con una sai le comunicazioni che si fanno i vigili invece di cazzo che c'è l'erba si come si cazzo si scrivono le lettere i vigili al comando al comando dei vigili urbane di Uras io è sottoscritta si è residente in via vorrei comunicare che ti vedi mi sa faccio meno male dopo ci chiamo albert oh albert ti sono scritto al canale iscriviti per favore se amico e cuoricino ti prego se hai piacere iscriviti al mio canale guarda adesso è andato con albert in partita mi distrugge mi stanco mi fa il dormire vai che cosa questa è una verifica intelligenza allora 3 7 non mi stressi non so l'ho fatta sparire fai con calma fai come se fosse a casa tua ma infatti sono a casa mia se non sia a casa mia beh spavate se non sia a casa mia se tu non sia a casa tua non intriparmi il cazzo del cervello vescare hashtag 21258 figlio di puttana cosa devo scrivere io sottoscritto al comando dei bigi urbani amicullo scritta nome cognome nata residente a nata a residente a residente residente a ora sì via 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 comunica che cos'è la mia abitazione cos'è un terreno su dei garletti c'è alta airbald 3 metri che la casa al civico la casa al 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 civico al civico vuol dire il numero civico la casa al civico numero confinante con la mia l'impieno si vede tutta la faccia prendi in pieno in pieno guardi che sta io non la fai è piccolino qua io sono questa 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 confinante con la mia la mia si si vede aspetta poco poco è più indietro di 10 secondi dai confinante con la mia e no quel cazzo di cosa fessi è in condizioni non accettabili per questo periodo ma quando le cazze si e richiedo la pulizia immediata aspetta ma di erbo di che cosa erbo erbo campis 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 inviare la richiesta ad albert comunica con la casa c'è uno c'è un confinante con la mia è in condizioni decorose non decorose è in condizioni è decorose è in condizioni non decorose ma che cazzo invita albert decorose in quanto non lo cura assolutissimo in quanto aiutami albert no l'ha nel caso di te cazzo no lo cura assolutamente me la compro meglio delle tue vettura rista busta collezione missioni sono più belle delle cazze delle decadine allora aspetta ok allora aggiungi amico fatto fatto albert più secondi aggiungi amico eccolo qua accetta accetta eccolo qua accetta ok ci siamo questo mi fa il culo albert questa cosa ne sa abbastanza bazze che nel minuto principale ad avanti accetta accetta mi tocca un amico grande che cazzo è che mi fa toccare il culo tua figlia l'amico le mani di una bambina la sento prima mi sono sentita come una penna in culo ok adio cazzo che muovi non devo fare a siglia ma cosa vuoi da me chi con te con Luca con Luca ma io lo devo fare per siglia questa lettera io sottoscritta comunica che la casa il civico numero confinato con la mia è in condizioni non decorose in quanto ma che cosa non cura in quanto non curata uno stregone Michael oh auguri questo ragazzo qua con la mia con l'annesso giardino si non so se hai visto il mio rank no stai copiando quindi giardino albert non l'ho visto allora ma chi è quello albert si ma guarda sicuramente mi fare un danno assurdo evidente ma tocca a te stato di degrado però devi in cui ormai vivono animali di ogni genere scrivo vabbè vabbè topi vivono animali devi premere la sua figura in basso a sinistra che figa aspetta arrivo vorrei sollecitare in basso a sinistra sollecitare casco da 19 euro dimmelo tu albert fammi spaventare subito ecco ecco perché qua sono un uovo hai capito non silenzio no 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 perché ti racconti una cosa di ogni genere vorrei perché mi ha detto ma sei d'oro gigante non dirlo vabbè adesso è bebetta ma io gli ho fatto le battute e mi ha detto non so come per un'immediata pulizia nelle battaglie amiche non si vede vicino al nome della persona qua in alto non c'è dopo lo guardo dimmelo tu che mi fai spaventare un po' no che l'ho presa da lì allora non sapete il cazzo bambino è stato vezzetto è colpa di sua figlia che dice che era sua quando ha messo di albino in cui vivono animali di ogni genere vorrei solicitare per un'immediata pulizia basta per la pulizia a maria soprattutto in attesa di un preludio vorrei solicitare per un'immediata pulizia per garantirmi garantire a me garantirmi garantire a me e me animali un'igiene adeguato un'igiene adeguato ma che straordinario alberto aspetta aspettando una vostra no perché una vostra risposta una vostra risposta porgo più cordiale saluti mi ha distrutto minchia madonna è troppo forte saluti shaffirade un 530 video giga come fa cazzare guarda i merci beh minchia che ne penso che ne penso che ti spacca è fighissima cioè da un gigabyte minchia ma che straordinario alberto ma ascolta pinca sembra il problema che avevi riscontrato su come spegneri ti cancellavano fortissimo ti cancellavano i dati l'hai risolto o non ancora non è lì no io lo so dove di là l'ho visto di là ok stavo vedi era lì stavo muovendo stavo cercando di cercare o sennò dietro di te vai vai dietro di te dietro di qua qua sotto ecco qui vai sopra c'è qualcun grande l'ho visto o dietro dell'ovetto dovresti andare a trovare un'energia oppure qui d'unico ok se sono un'anca se hai sacco un sacco un sacco un sacco buono buono e la scritta via gli serve per comunque per cosa per avere per migliorare quanti ram ha il tuo pc però 800 figa 800 gli ho il caffè del professore mi sono stionato la lingua mi ha fatto stagliare il caffè del professore mi sono stionato la lingua il primo il primo strato era tiepido vabbè vado sotto aravolette non vogliono tutti grazie ma non ha risolto c'è anche la 2 giga allora finca se la differa di vedere quanto regge il tuo pc però occhio anche inutile a mettere qualcosa di potente che il tuo pc non lo regge è come mette 32 giga che il tuo pc ne legge solo 8 ne ha metto 42 ne ha metto 32 ma quando legge solo 8 ciao Gianni ciao bello manda i tuoi amici qui in live Gianni dai dai Gianni dai dai non ha fatto apposta non ha fatto apposta non ha fatto apposta te l'ha fatto te l'ha fatto un po' aio Gianni vedi io un paio ho un po' di tempo stanno giocando ma mi hanno chiesto di giocare a a Aertson questo ragazzo sono con un un ragazzo iscritto spero che sia iscritto al canale speriamo che abbia voglia iscriversi cioè fortissimo mi sta mi sta massacrando loro stanno giocando comunque a fortnite io non ancora lunedì ho un po' di tempo cerco di risolvere tutto scrivo di audio e video ok ma quanto hai di ram pinkas cioè mi ha frastrullato il mondo questo cioè mi ha distrutto si si giochiamo 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 Gianni le manici naturalmente facciamo poi le partite con con albert certo che ci gioco a che cosa a fortnite certo no non gioco no non si è scritto e a me lo appoggio un tico di merda minchè fortissimo noi siamo pinkas dimmi quanti era mal cioè è forse ragazzo albert dopo un altro se mi senti ho perso dai è fortissimo è qua me lo appoggio ti prende sono i 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 e mari con le faccio compagnia non scappare ah te ne vai sei uno stronzo Gianni addio Gianni quanto la gattate si cazzo di mo' che non so le giuste di merda è poco poco un giuste di merda ho fatto tutto tutto mio non c'è la mente ma voglio ammetterla ha già messo ma anche amicizia ah si si no mi è arrivato si si è arrivato è arrivato grazie grazie grande Albert che cazzo attacco cioè è fortissimo si ma di brutto sta al 5 eh buona festa perché devi guardare quanto quanto ai di rama pinca se dovessi minchia vola che carte che c'ha mi sta sfodendo di brutto la di nuovo di nuovo c'è guarda ragazzi chiunque ascolta guarda stanno a puttare il joystick come guarda un pochettino pinca perché secondo me bu minchia è fortissimo il ladro è forte ma confonda tutte queste magie qua sono precisamente in che punti si trova la storia e l'ho visto su youtube su io porno anch'io di scar e scarcazzo dopo il valo su wish e mi cerco su wish come la me sembra le cambio tutto però è che fa schifo c'era cambiato il paladino ma tu mangi l'hai avuto tu no vai ragazzi preparatevi all'altro spazio che mi farà mi farà albert per cui guarda pinca sto dicendo al minimo fatti per essere tranquillo 16 giga 16 32 se puoi se puoi prenderla se non costa molti di più prenderla da 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 un ciclo va bene da due e poi una scheda audio normale direi commentare della scheda madre però dammi me la succhi ma ciò che me la me la succhi ora posso fare anche i pezzi breve questo da molto giocato ragazzo la la prego l'ho sbagliato per voglio mi sono venuto su questo peso quando mi servite mi sono mi sono mi sono mi sono mi è ho stanza No, troppo, quasi no. Eh, stai ingressando la scelta, non mi spazio. Zecca, la scelta alta. Perché mi stanno andando a puttani? Secondo me è da due anni. Da tanto. Io non sto capendo più perché... Due anni e mezzo! Ci ha azzeccato! No, non ha azzeccato il mezzo. Vabbè, due anni e c'è il mezzo, va bene. Bello, eh? Meramente, minchia, un censo. Vincenzo. Vincenzo. Attenzione! Piero che compete con Albert. Piero. Piero che vuole provare a battere Albert. Lo vediamo in attacco. Ma arriva Albert e lì... Guarda, eh. Pam! Pam! Che cazzo vuole competere? Questo è fortissimo. Piero che vuole competere contro uno scarso. Ma che cazzo ne so? È fortissimo. Eh... Porca puttana. Secondo me sei tu scarso. Dio bonsai. Dio bonsai. Secondo me è forte... Non è forte lui, ma sei scarso tu. No, no, lui è fortissimo. Minchia. No, io sono forte. Io sono scarso. Oh! Dovevo prendere il ladro, eh. Mi dovevo già... Minchia mia, oh mei cazzo. Per la zucchi. Per la zucchi. Per la zucchi, Gianna. Non è la zucchi. Ho sbagliato Albert. Devo cambiare mazzo. Ho sbagliato. Se mi senti. Eh, no. Questa non è la scusa che... Scusami che l'ho fatto io. Ho sbagliato. Dovevo cambiare. Sbagliare. Sì, un po' sfidi perché l'ho sfiorato. Di due centimetri di cazzo. Con la pillona. F***a però, eh. F***a. F***a. C'era Michael, Michael. Michael. Minchia, che cazzo è questo? Si chiama Albert. No, no, è fortissimo. Ah, che cazzo. Se non lo conosci, figli di tua mamma è tutta la zucca. No, madera via, Shara. No, Shara, la cucciola. No, bapata. No, cazzo... Ma insolito. No, non l'ho mai. Qua cazzo è che cazzo è questo. Cazzo è che cazzo è il quale? Ti ricordo che è più forte di te No Guarda cosa ha fatto Tu ti 333 L'ha fatto diventare da 1 a 1 E diventa il più potente anche lui Oh ma perché la Ma che cazzo sei In che sei un mostro Albert Guarda quanto costruisco veloce Alfredo Tanto non esco Mongolo C'è minchia ma che cazzo fa Tanto non esco Non posso uscire Non c'è la casa L'ha dovuto fare il mandrone No Della cazzo Roberta Della Della cazzo Guarda di cosa Quello Quello No non posso ancora niente io Le sto provando Se non mi piace Se non mi piace se la riprende Quello Il coso E a casa Anche scarpe Se vuoi C'è ma che cazzo ma che cazzo Devo pagare Se la bifera se lo riprende E' troppo veloce No Cosa Che cazzo ma sono in safe Che cazzo ma sono in safe Cioè Lui è al quinto livello Non so per quante volte Ma vuole però fare Tutto il certo Dov'è il ladro Senza mirare Cacciatore Allora Ho sbagliato Come cazzo fa Questo qua Minchia C'è il dote C'è il dote C'è il dote C'è il dote C'è Luca C'è Luca C'è Luca C'è Luca C'è Luca Vabbè 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 In famosa Ci faccio C'è il cazzo 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 eh Ma proprio cazzo Ma proprio cazzo Proprio cazzo le facce Cazzo Wow Wow Sì Madò Sì Ah è proprio cazzo Sì 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 Che Cazzo 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 è ok cosa fa? cosa fa? no ma che quanto cazzo sei forte hai carte pesanti questa per forza non l'ho caricato di merda e non lo becco come è possibile che non l'ho beccato il cispuglio vuole capire come è possibile che non l'ho beccato il cispuglio a volte occhio a volte fanno dei bug assurdi oggi meia sparta 1 5 in testa l'ha tolto ma quanto sei forte questa? l'altra questa? si adesso si adesso era utile poi me ne avanzano due è quello un da quello fidati ma cos'è il segreto? si fa qualche che si attacca con uno di servitori no? si ma se vi ho tanti nel campo no? se si toglie 5 per esempio no? fa 5 di danno a tutti gli altri attivi che possono essere attivi minchia mi sta sfasciando no ma ho fatto un cazzo ma ho fatto questo quella da 3 che non è quella volta questa questa che ti prende questa una cazzo l'altro di solito si ma non posso usare sono a 7 ebbè tutto ti ha detto tutto le stai dicendo grazie ti voglio bene tutto le hai detto ma volevo dire e lui mi vede le carte qua mi vede hai capito? non vale Albert porco Giuda non vale Albert non vale ma quant'è mi ha messo? 10 euro benzina? no 3 pilone e mezzo prima 10 euro poi mi sta di 1 4 e 4 sono rimaste Albert minca a 19 se no ve l'ho portato è un gran è un gran è un gran è un gran onore Albert mi ha speso mi sfraccella vai rispondi Tom ne fai un'altra Albert se mi senti ne fai un'altra minca non mi ha mai non mi ha mai devo parlare con Albert non mi rende il saluto l'avviso fa poi non abbiamo avviso un'avviso l'uomo mi ha mai mai un'avviso ti prego c'è il polo di merlo c'è c'è che basta siamo a uno siamo a un livello altro livello si si no ma si vede Albert se mi senti sei un livello assurdo sei un livello veramente esagerato cioè hai carte potentissime combo fantastiche sei un livello io secondo te ho una settimana il gioco abbiamo una settimana stiamo giocando non lo conoscevo l'ho trovato così su quel programma che c'è anche Heroes of Storm e l'ho scaricato proviamolo cioè veramente sei un livello altissimo cioè proprio togo da carte mi arrivano due carte di merda più alte ancora si si viva la sfiga proprio no mi entri un attimo in live tu sei proprio a livello estremo fai già questa Albert poi vado su Fortnite ok vado un pochettino lì a farmi un giro però ci giocherò ancora con te non preoccuparti perché mi piace puoi giocare a coppia ti spiegare sai il tuo gatto sarebbe giocare a coppia con Albert minchia io mi piace mi piace ma è questo che non c'è una cosa Un tipo con il cecchino, ha ucciso un altro tipo. Ha avuto il culo che ha sparato così a caso. Che c'è? Due, quattro, tre, sette. Minchia, un sacco di combo fantastiche. Cioè, guarda, guarda, con un cazzo tira fuori il mondo, porco il disco. Porca madosca. Ragazzi, tra poco andiamo su Fortnite, per cui vi aspetto. E poi, grazie assolutamente Albert per avermi sfasciato il mondo. Oh, mica uno mi ha lasciato. A uno mi ha lasciato. Cioè, proprio, mi hai risparmiato. Ti ho fatto così, c'è un... C'è un favore, mi hai fatto Albert. Dai, ti porto come sempre sui 19 e poi tu mi sfasci. Cioè, veramente, là. Tra tre, due... Cinque, sei, cinque, cinque... Cioè, è fortissimo. E tranquillo, puoi tira fuori queste combo che è veramente... Cioè, non ci credo veramente. Quanto spettatori? Un certo scarso. No, sono... Qui si sveglia. Ma che... Eh, ma che stiamo un po'... Così, ma porco giù, da santissimo. Oh, scusa, Albert, non ho fatto fin di turno. Perchè mi hai dato un spettatore a me? Eh? Eh, cosa spettatore? Due. Ma mi lasci vivere il cos... Ah, la magia? Mo' mi vuole... Mi vuole fare qualche... Qualche sfascio totale. Per le parti, eh. Guarda, eh. Lala! Immaginavo! Guardalo! Guarda! Col segreto mi ha ammazzato. Cioè, me lo immaginavo, cazzo. Me lo immaginavo, Albert. Per ascoltare una cosa, Michael, per sentire una cosa. Eh? Per sentire una cosa. Oh, Albert, grazie. Passo su Fortnite, ci vediamo presto. Gioco quasi ogni giorno qua, se mi senti. Per cui... Per cui... Così fa? Per cui, naturalmente... Dai, dai. Facciamo l'ultimo, dai, dai. Ok. Vai, dai. Vai, dammi... Minosco. Questa qua, dai. Minosco. Facciamo l'ultimo e poi andiamo. Dai, dai. L'ultimo, ragazzi. Poi andiamo su Fortnite. Io lo devo. Il mio iscritto è un grande campione, minchia. Poi va a fare gare e spacca il culo della gente. Yaет, licitato. Baledi... La base è un undertone con hash. Panadino, minchia. Di nuovo questo. Oppure... Già doppio Minchia Come a cazzo Fa sto cristiano Ripeto col mago Perché mi trovo abbastanza bene Se mi senti col mago Mi dimentico anche Di fare fine tono Perché mi sono concentrato A guardare lui Che cazzo I am Ixj Non Jax Dai ragazzi Dai dai Vi aspetto Tutto in live Non deludetemi Grandi Minchia C'è Non fa essere felice Un secondo Cosa mi sfraccerà il culo Ragazzi Fra l'ultima partita E poi andiamo Che schifo Su fortnite Puzzida Per cui L'ultima partita ragazzi E poi andiamo su fortnite E vi ho letto fortnite Fra un po' andiamo lì Vediamo questa qui Qui c'è già Fortnite pronto Per cui Per cui 3 1 4 Stai fermo Dio santo Mamma mia Non scappate Rimate Doverrà ancora 3 minuti La partita Tanto Albert È fortissimo Rimate comunque In live Rimanete Che ce ne andiamo Su fortnite Faccio un giro Adesso abbiamo Luca Che sta giocando Ai cose Poi naturalmente Mi spostero io Mentre loro Quello loro Quello loro Quello 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 Per cui Non scappate Ragazzi Non abbandonate Vi prego Ho messo forte Perché Poi Ma che Se fare L'ultima partita Scioli Stai lì Stai lì Lì Ti guarda Guarda Non va un cazzo In campo Non va un cazzo Anche meno di 5 minuti Preparatevi Anche meno di 2 5 5 5 Che cazzo Che tu non hai Cioè Per questo Vabbè Veramente Che devi Leccarmi Porco Disco Che cazzo Questo è Bu Cioè Bu Che fortissimo Dovati adesso Eh Ma no Mai lo batto Siamo in 5 Lo batto adesso Ragazzi Siamo in 5 In live Rimanete a 6 Saliamo Saliamo Devo battere Albert Cosa praticamente Impossibile Mi sface Il bel amato Culo Con tutti questi Guarda 1 2 Guarda Pum Guarda Pum E comincia A farmi dolorido 1 Guarda Altri avanti E vai Vai Doi Minchia 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 Altro Vai Vai Tu ti ammazzi Così Sì Meno male Ogni tanto Un po' di culo Ragazzi Anche a me Serve Speriamo Speriamo Dai Raga E ho visto Presto Concentrato Fammi Fammi vincere Qua Ecco Dai Evoca Due Reclude Minchia Tu cazzo Di Di Coso Tutte e due Le metto 5 Vabbè Se fa L'altro Che cazzo Faccio Toglie Uno Questo Cazzo Posso Fare C'è Di 9 Posso Battere Ragazzi In 10 Live In 20 Dai Posso Battere Dai Cazzo Batto Mi fa un culo Così Adesso Guarda Guarda Ciao Belle Sto Bello Conoscervi 6 Aspetta Guarda Guarda Stavo per vincere Eh si Ebbè Questo Figa Questo è importante Ha vinto tutto Vabbè Ma Cioè Vedi come Mi arriva La situazione Guarda Può Toccarmi Questo Questo 2 6 8 Ha vinto Ma Pam Guarda Ciao Ciao Bella Albert Albert Bella Albert Ci Becchiamo Se mi Senti Ci Becchiamo Al prossimo Tocca Tocca Comunque No, le può giocare anche lui Comunque Non ho preso lì C'è un altro questo Eh, che cosa? No, ma già, grazie Cosa lo trovate tu? E' chiesto di tu, hai vinto No, 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 no No, no, dai, anche ho fatto io Se vincete, voglio il 10% eh Se fate un milione Dai Lu, vieni qua, Michael Scusa, vai Michael Lu Vai Lu Michael, segui tutto eh Ok? No Allora E' un po' strano Cazzo è merda Sembra Guarda del pannolino Da quando c'è il pannolino è una merda Che cancri Senta? Eh, ma non solo io Anche Luca deve vedersi un po' Si, si, metti a metà Che bene Mettimi la microfono Michael Aaaaaaah Si, è mio Mammco 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 Metti l'emmettare al microfono Michael A metà Prima sono arrivati in cinque Michael, purtroppo eravamo su Fortnite e siamo usciti. Capito? Si. Dai soldi. Lascio vedere se vieni. Grazie. Pronto? Allora, dimmi. No, no, non esce. Per quello non rispondo perché al telefono è mutato. Ok? Dai. Mi piacciono a me, Michael. Che razza ci sono. Bene o male, non stessano più a me. Perché ieri mi ha fatto chiamare comunque qualche sicurezza. Di ginomo sfonde. Cavalca le onde. Scrivete queste parole. E' il migliore. Adesso. Adesso. Dovante a te, tizio, con il bazooka. Non so ne frega. Ti ammazzo. Ciao. Ma dai. Non vuole di piacere. Uno più a me. Uno più a me. Sì. Ma cosa vedi lì? Prendi la cappellate. Vai. Minchia. Niente. L'hai fosbullato. Oh. Ma ve lo dà. Come bella c'è a vasino. Seppa. Ma chiudu. Ciao. Ciao. Guardi quanto cazzo laga. Lagga un botto. Te l'ho lagato adesso? Si, ha lagato. Non è vero. No, poco. Non ha lagato per niente. Il vieto ce l'avevi. Che stai dicendo? Che stava lagando. E io lo manco. Hello. Ciao Charlie. Hello. I'm William. I'm my dad. Dai ammassami però. Non ha lagato qui. Ha lagato. Non ha lagato. Ha lagato. Che si è visto andare da qua lì. Non ha lagato. Madonna. Ma vabbè. Ha lagato. Va bene. Non cazzarti. Dai che vorrei prendere un po' il vieto. Ci siamo. Andiamo. Io vado. Ciao. Ma ma. Ma bacca gare. Ma bacca gare. Che mamma di merda che c'è. No. Arretti. C'è mia. Sono voci. Vieni. 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 Mi sento. Mi sento. Mi sento. Oh. Stai in là con le tue froci eh. Oh. Ma con un po' toccarsi. C'è lì dentro. È vero. C'è lì dentro. Stai cagando nel letto questo. Stai cagando nel letto questo. Stai. Dove sono i miei occhiari? Il live da solo io quindi. Figa. Ma io ho due o tre? Tre. Eh. Ciao ragazzi. Qualcuno è ancora vivo allora. Ma dai. Vivo. Dopo tutto è stato bello. Bello averti live. Aspettando con essere il tuo arrivo. Eh. Che male. È stato bello averti live. Soprattutto quando voi mettete live. È bello quando voi vi iscrivete. E visualizzate tutto il mio canale. Se no vi ammazzo come ammaccete. 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 Quanti live? Quanti? Due. Tre. Ah grande ragazzi. Viva la figlia. Yeah. Che altro suona? Luca fai tu. Ma sei aperto? È morta. Fai figlio da faccia. Dopo tutto è stato bello sborrare. Sborrare da per tutto anche il mio animale. Ma te lo stai andando a contornare? Ti stavo spianto. Ah il suo messaggio? No. Il conto è cambiato il suo messaggio. No niente. Sto sperando che non urlate da fare la live su Facebook. Cioè a me che se ne accorte. Ma come frega a me. Ero qua. No. Oh minchia. Parlete poi ci fosse di merda. Gli uomini. Eh aveva uno sbocciato. Oh ma Dio bonno. Oh oh. Cazzo scorreggi brutto mufflone in calore. Quali siamo? In due. Vedi vedi. Per cari di... C'è la tua mamma. Per cari di... De tu a scorreggi. Mi devo prese. Ehi e credici. Cioè vai in giro e non compri da mangiare. Ehi e... Ehi e... Non ci sto credendo, c'è anche una cassa Ma stai scherzando Ma stai scherzando Santo Santo, Santo, Santo il Signore Dai ragazzi, vi aspettiamo in diretta su Twitch Non posso far vedere chi sta giocando Ecco, beccato Ma questa è la nostra postation Postazione, postation Star Star One Station, One Nation In postation, Playstation Xbox One, vi dicendo Vi aspettiamo in live Dai ragazzi, a chi è che non faccia Fortnite Da tutto, faccia solo me Comunque non importa, non importa ragazzi Venite, siamo qui Sono già venuti Siete già venuti, bene? No, non qui Ragazzo Dai che siamo pochi Un saluto per me così in pochi Siamo un po' di coglioni qui a casa Giocando a Fortnite Avete fatto il cazzo di infeso del LED Che fa Che cazzo di laser di merda Vi aspettiamo qui Dai, dai Non c'è un cristiano che vuole venire in live con noi Tutti in giro, fate solo bene Che cazzo state a fare a casa come noi incognite a giocare a Fortnite Per seguirci ovviamente Per seguirci naturalmente Dovete venire qua Oh Pinkass Che Pinkass? Cosa ha scritto Pinkass? Dov'è Pinkass? A te Gruppo non si dicono queste cose A te non piace No a me piace Fidati Pinkass Dai ragazzi Vi attendiamo qui in live A me piace Scaricatevi Twitch Se non sapete cos'è Ve lo insegno io Abbonatevi al canale Twitch è un parallelo di YouTube Molto più professionale Molto più Di gente seria Niente trash Niente merda Niente cazzate Vi aspettiamo qui in live Ok Twitch è al gran 06 Vi si vede al canale Un bel cuorecino per seguirci Che a voi non costa niente l'iscrizione Per noi è tantissimo In questo momento abbiamo solo un Un player Un player ok Non lo riprendo bene bene Ma è un player ok Questa è la nostra postazione E l'effetto led Non esiste in realtà Lo vedete voi Perché questo telefono Ha una sofisticata telecamera In 4 milioni di K Neanche 4K E non esiste ancora Ma io ce l'ho già Ok Di 4TB Abbiate pazienza Questa è la nostra postazione Abbiamo un po' di schermi Da 4KB Noi abbiamo l'Ener Che quando ci vede è contenta Sì vai ancora Abbiamo pochi pochi schermi Dal cui guardare Forse Pinker l'ha scritto No Sì Pinker l'ha scritto Pinker l'ha scritto A me non piace Ha rotto Guffo non si dicono queste cose A te non piace Credo che ho detto Viva da figo Ha detto È diventato gay Pinker No ci chiediamo Pinker Dai Li ha rotto È diventato gay Se andavi d'arrivo al DJ qua Siccome entra pure Vedere la moto Vero? Lu È il culo della moto? Ah No Ragazzi Ma che amorto Quali siamo in live? In 3? In 4? Quali siamo? In 2 E l'altro che Non so sfidante Quanto siamo? Non dire il nome No lo so Secondo te? Ah sì Quanto Come noi Ah Ma noi siamo i 3? 2? 3 3 E tutto come noi Siamo 2 noi Ah E' tipo come noi Dai ragazzi Che ci fate qua Io in live Dai Dai Qua c'è anche musica Vi aspettiamo Dai ragazzi Che chiudo Se no Andiamo alla gare Dai muovetevi Bipolare Con il sogno Di ficcare Ciao Mirko Mi dico qui Mi dico a segno Ah che piccola ha scritto Hai piccola ha scritto Non posso guardare Cosa pica Non può guardare Che mica Che è una visualizzazione Che piccola Guarda Adora Mi vuole Che film Ha scritto Che comunque Da postazione Bellissima Ti piace Pinkas Eh ti rodo Il culo Non scherzo Bella Non è ancora finita Pinkas Su wish Ah tu che cazzo Vuoi metterci ancora Su wish Adesso mi è Adesso che Andiamo a far Legare questi due Mi voglio regalare La tastiera E il mouse Colorati Forse Un microfono decente E basta Poi basta Eh Per ora Per ora basta Tanto sai Che qua si esagera Ma io non andi con il battaglio Che figa di merca Però E' un po' proprio in moto Piero Non mi avviso Oh Dai Dimmi Michael Dai Guardi per lui E' importante Per me Dove si gare Pinkas Vogliamo Deve che era morto Dimmi Michael La la Tuffandosi In caramina Di un cerchino Proprio Lo so Grazie Pinkas ha scritto Altro Michael Ma posso guardare Quello Madonna Allora Pinkas ha scritto Da figa Mi piace Fortunati ha rotto Chiunque video al giorno Almeno Ah Io mi stavo Foto Da figa Guarda Pinkas Se no ti lo faccio Se no Robo il cazzo Al mattino A Airstone O League League of League Ragazzi Si chiama League of Legend Eh Ieri un po' Di Magic Forza E non for Di pomeriggio Perché c'è il boom Di persone Il pomeriggio Anche se oggi Essendo sabato Non c'è molta gente Come si può notare Poi si spammano Per tutti gli altri canali E via Ma è normale Il sabato è così Domani mattina Portiamo di nuovo Airstone Magari un pochettino O Magic Questo vediamo un po' Anche se tu magic Sono praticamente Pollo Ed Airstone Vedi Grazie a Airstone Ho acquisito Un nuovo iscritto Albert Porca troia Qualco Albert Einstein Qualco cazzo È forte Quindi Questa è carta Madonna santa Bellissimo Bellissimo Perderò spesso Devo fare Quei presenti Per vincere Maxi E via dicendo Ma La L'uomo Ma Per l'avviso Lui C'è Sei una merda Sei Finca Con me Il voto Non ci vieni più Dopo questa Veramente C'è Non ci credo Che ha scritto Finca Che figlio Un amico L'hai dato Che ha scritto Finca Cos'ha scritto Hashtag Uno Finca Sto facendo Nuova Adesso Ho tre Monitor E Pink Tre Ah no Finca Se cominci a mandarmi Le foto Sul messenger Noi quattro Ne abbiamo Dai Finca Mandami Le foto Sul messenger Dai Dai Cioè Dammi Non è Tutto Ah Grazie Non ho male Elite Gianni Due Col pc Sì Evitami un po' Eh io Non ho evitato Oh Mera male Grazie Se no Sto mio figlio Stava prendendo la moto Per sempre Apri Lala Inizio Ah Ok Com'è che si faceva? Devo cercare Di vedere Aspetta Se hai impallato Il jessic Vado Sì Cazzo Stava comprando il jessic Eh Non ho compro il nuovo Ma hai toccato Sì Come ho fatto Si impalla La scuola Ah Non ho avuto Un puttana Di sette Dove Poi ad impallare E Gianni In colgo E non so Poi di impalla Di colgo C'è un'opzione Di bloccare Qua dentro Il porto Non si è impallato Sì Sì Mi fai back in Fortnite Ha scritto Sa che ti seguo comunque Lo so Picca Picca non fa una cacca Arrivo eh Se vuoi venire Terza porta A sinistra Poi dritto Fino al mattino Poi la strada Trovi da te Fino accesso Che non c'è Il mio piccolo Guffo Deve essere controllato Ha visto Ha visto Se deve essere controllato Potremmo combinare Due serie Tipo Pugli altri Tipo Io No Mi toccarsi Pregiardo Se non mi incogni Di toccare Sì Che è un po' Di serie Allora Ok Ecco Vai Il nostro next bot Che Spara merda Ogni 3 per 2 Ogni 6 Quindi Ogni 6 Diviso 2 Fa 3 Ti divido 1 Fa 3 Ti divido 3 Fa 1 E 1 1 1 1 0 Non lo so Il compare 76 Ciao Il compare Allora Piero Adesso non c'è Mi è andato A cagare Sì Comunque sì Tu puoi giocare Allora Non so Se ci hai già Mandato L'email Bah sì Il nickname Scrivimi nel caso Michael ti ricordi me L'altro Mike Ah sì Ti ricordo di te Michael L'altro Sì 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 Mi ricordo Ehm Qual è il tuo nickname E così Lo scrivo E giochiamo insieme Ti cerco Ti aggiungo Tra gli amici E giochiamo assieme Tu devi solo Scrivermi il nickname Qua Nella chat Così giochiamo Perché magari Non ti ho come amico Arrivo Facciamo la cag Sì pink Io le richieste Sono da pc Qui da epic Mi chiamo Real War Germ Allora Scrivermi il nickname Allora Scrivermi il nickname No, W grande W grande Wargern Vime Ecco, io L'ho inviato Ecco Ecco Non è io Aspetta Sì, ti sento Aspetta, prova a parlare un attimo Parla, parla Mi senti? No, lui non mi sente Allora, io non so come sentirti Sinceramente Ehm Ehm Sai che non so Come possiamo sentirci Sì Perché da qua io così Sì Sì, sì, hai parlato, ok Mi senti a me? Mi senti? Mi senti? Mi senti adesso? Mi senti? Mi senti? Nah Mi senti? Sì Ah ok, perfetto Ah, però a volte Aspetta è che Ho cuffie schifose Dove sei sentirmi? Mi senti? Sì Ho cuffie schifose Non so se si sente Tipo adesso non si sente più Quanto è bella la vita Aspetta un attimo Aspetta un attimo che prendo tutti Vai nella cosa Mi senti adesso? Bella ragazzi Shhh Parla un attimo Eh ma non lo sento Non lo sento dalle cuffie io Mi sente tipo Lo sento dal computer Eh la computer devi fare Parla Ok Ah sì, si sente Va bene? Sì, sì, va bene Si sente C'è in sé, grazie raga Minchia Il compare Chi è? Lui? Real Ah Oh real Ti vuoi iscrivervi al canale? Ne hai voglia Ma che è quel Michael? Però ma sai chi sarà? Ma è quel chi? Non è quel Michael Ma che Vado a Youtube anche Quello In cui siamo andati non serve Sì Adesso scompare Come carica Sì 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 Wow Beh adesso dovrebbe ricomparire Oh mi senti? Mi senti? Mi senti Michael? Sì 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 Al compare a un Twitch Grande Ti amo Ciao Dove ci buttiamo? Commercio? Ok Quante siamo? Quante siamo? Un 5 Bella Stracciata Tu alzi poco poco Questo Non sento bene magari Scusami Scusami Così? Sì sì Sicuramente è meglio adesso Vediamo se puoi senti qua Prova a parlare No? Ciao Sì sì Fa già meglio Dove vai tu? Non ti segui nel caso Case Case Ok ok Stiamo attaccati così almeno Non abbiamo il rischio di morire subito Bellissimo Michael Ed è perfetto Bella Quanti live Michael 5? Pro Ciao Diciamo che si fa la PC Che figura Mi spiace la sporta che va Se ne scrive la Michael Quale lui intanto è? Dove? Ma ricordo dove Dove è? E' quello è il secondo Dove chi era? Cosa ti ho perso? Ah non l'ho visto Davanti a me era Io mi stavo Ti botto Michael Qualsiamo reggini? Un 4 Vai Eh però buono Il massimo di 6 7 Contro Eh buono 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 in 4 eh Se ci seguono tutte le Perché Perché ci seguono 2 Italia Eh? Perché Con 102 Si è Italia Dove può andare quello Ah E' anche Europea Spremer No in Italia Quello è quello Spremare Ah ok Non lo capisco Sto dicendo A bambere dove andiamo grandi ragazzi non vi dare io no si urla ha corso sempre senza morire questa volta però voglio vederti in azione eh il problema è che se non trovo un'arma è un'altra cosa eh si lo so è difficile senza un'arma cioè se è salito ho preso l'arma gliel'ha data a lui ah e dai no riproveremo trova minchia su un'altra vado da casa con la tutta adobinata non ho questa qui ma l'altra ma come sta con le noci no è l'ex doc ok ah poi ci devo mettere una pallona bella buona in tecnici ma vai tu vai 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 guarderla in tre ok vediamo l'alto è bello che cosa tra pc xbox cosa stai facendo un punto caro? ehm real no no ma sei matto sicuro? no no ho già ho già tutto io ma michael tu sei quello che mi spiacellavi a minecraft che mi massacravi a minecraft si ah ecco mi ricordo bene grande che mi hai seguito grandioso e poi magari dopo ci lo vediamo in caso di privato mi hai ritrovato qua visto scusa un attimo nessuno c'è qua eh si c'è beh si ma non li vedo ora non è anche io com'è tocca al pc è bello è meglio è meglio di tutte di piattaforme aia come cazzo ho fatto prendermi così aia è da me mi hai colpito bene in testa mi hai colpito bene per dire bene comunque non era solo uno quindi l'altro lei che lato è no 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 allora c'era un altro e non ho visto due sicuro solo uno io non ho visto aspetta Ah, munizioni di pompa, quotidiani, io dieci. Esci, minchia troppe. Ah, eccolo l'altro, eccolo. Aia, 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 che cazzo l'ho visto? Bravo, bravo. Mi ha sparato attraverso la costruzione. Eh, ma dove bloccarsi, perché stavo costruendo. Mi va in bug? Allora, numeri tre, messaggi, più l'ora non ancora. Quindi, comunque ci sia, mette like, si iscrive al canale e commenta. Io devo fare tre chile a commenta. Dov'è? Perché così alzo la media dell'epiddo e posso andare nei tipo 4. Ah, buono. Già, ora non ce l'ho basta. Dai, non ce l'ho basta. Potrei andare ancora a metti un po' fortini, ma non ce l'ho voglia. Ah, davvero? Sì. Buono, buono. Riferisco però la presenza grande. Beh, sono proprio decisioni alla fine. Se tu vuoi, fai come vuoi. Nel senso. Capito, insomma. Sto giocando male, cazzo. Non va bene. Ti sento, giochili che... Beh, belle. Eh, diciate tutte oggi. Cazzo. Siamo in sei. Sei? Sto da PC ma laga, eh Gianni. Posso dire che c'hai un brutto PC con poche giga di ramo. Ma che qua laga leggermente, ha quello che è un piccolo difetto, ma guarda, va bene, se non laga. Ma qua non laga. Stacca la leggermente qualcosa, Michael. Stiamo cadendo di... Questo? Sì, staccalo. Scoglilo. Sì. Escici. Via. Perché l'altro è su un coso e l'altro, è un lag quello. Ma voglio avviare. Dici come va, Gianni. Lo sapevo ancora che vi siete spostati su Twitch. Sì, no, su YouTube non fa più, eh. Eh, infatti, poi... Hai visto il messaggio che mi ha scritto? Quale? Eh, quello che alle 4 andava bene. Ah, sì, 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 sì. Eh, io ho cercato, ho cercato, ma non riuscivo a capire dove era la live. Poi ho visto Stonic, ho provato a dentare. Grande, ma non mai, scusami, non te l'ho avvisato, scusami. No, ma è... È illogida pensare che lo sapete. No, perché molta volta scrivo, vieni su, vieni qua, vieni qua, capito? Perché magari, guarda, come viene su Xbox, glielo dico e ne parliamo, capito? Eh. Per quello, è da molto tempo scrivo. Perché ormai su YouTube le live non le faccio, ma da solo la registrazione di queste live. Tante, una perda di tempo, YouTube. Eh, beh, è molto meglio qui. Sì, quanti micro... Sì, 4. Beh, su Twitch non c'è trash. Sì, sì, c'è tolto 30, mi sembra. Beh, pure fermo era, quindi... Sì, è fantaggiato, eri. Era fermo. Sì, c'è tolto 30, mi sembra, perché è una linea di abbinamento dedicata ai perotti e il secondo ruolo. Quanti, Marco? Tanti, eh. Tanto. Quanti, Marco? Siamo in due. Ecco. Uno di vita, non ci credo mai. Che sfiga, uno di vita. Cioè, è proprio brutto. Uno di vita, ma guarda. Che palle, oh, per uno di vita. Cioè, una scorreggio per ammazzarlo. Invece no. Ma due di vita, non ci credo. E se tanto, ti tolto. E due di vita. Comunque ho il ballato io. Perché? Perché? Perché, hai visto quando ha spaccato le mura con le tue, con le tue, con le tue. Sì? Eh, non le do, ha spaccato. Ah, no. Potevi aspettare che ti spaccava lui, magari. Perché tanto arrivava il suo mese, quindi dove ha spaccato le tue. Potevi aspettare che non ha spaccato. Sbava Piero Sbava Piero Sbava Piero Ha detto a Piero se ti hai mandato la foto Non lo capite perché sbava Piero O per la foto Probabilmente che gli hai mandato Allora dove vado io qua Cosa ma torni io questa qui Io avevo troppo pasta Come vieni se vuoi Buono buono Minchia bella la foto Mi curo io Buono ragazzi siamo in 6 Chiunque ci sia si iscriva Bella raga Dai Spacchiamo raga questa live E non mi spaccare le orecchie Faccele tutte raga Aiuto 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 Bravo 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 Un'arma C'hai cosa da Per curare Eh si Shield C'è gente Ho lasciato le bande Davanti lì Davanti lì a te Davanti lì a te A terra A terra A terra A terra Ehm bravo Non posso dire altro Quanto medico Bravo Beh Non è in Medi Da darmi qualche medio No Ehm 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 Bello Bene Grazie Ehm Ehm Ci deve essere qualcun'altro Si per forza Mi laga tipo tantissimo Ma adesso Ehm Ehm Possiamo andare Ehm 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 Ma a me Ehm 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 Come se spogli Non si vuole più alto E se spogli Non mi fa traspogli Ma non c'è niente Ehm 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 Come siamo Michael 3 Dai Dai Ehm Chiudo guarda Ha colpito Devi tirar fuori la tua spoglina Anch'io Stia curando Caraca Maicola L'altro Non riparo L'altro Andate a pucciarmi Avrà pochissimo E mi ero truccazzo Però Comunque Comunque C'è l'avanzo Che è il tempo L'hai tanto del tutto Che è Quella ragazza più grande Già inizia A scramare La notte Di conseguenza Vuole avere più agilità In movimento La notte Madonna Ma notte Ma notte Ma notte Michael quanti Da tv Per la console Monitor Per il pc Pincas Poi Gianni ha scritto Che Sta Nella nostra lobby Quindi Gianni Sto Non è bene Ascoltami Pincas Mandami le foto Con il tempo Sono curioso No Poi Ho detto Ho visto Il video Con le stanghette Con l'appunto Informativo Dove l'ha messo il video? Ah eccolo qua Stiamo in 6 Buono A terra Grande Minchia Niente Pincas Niente Guarda Ci sparano Di nuovo Ci sparano Noo Noo Fincas Passione YouTube Vai vai Di stai Ma come faccio Aia Eeeh Mi ha colpito Non posso più distrarlo Ci spavano Ci spavano Ci spavano anche a colpi C'è poco tutto Ci spavano Ci spavano Ci spavano Ancora Ci spavano Di merda C'hai Fai di bende Porta giù Da Cildino Aspetta Sono in pericolo Eeeh Porta di merda Eeeh Michael però Usa quella bende Così non sprechi gli altri Aspetta Luca Di rispettare Michael Aspetta un attimo Michael Cura di una Cura di una Ma è giù Michael Giù Per salvarlo Michael E' giù Michael Mi puntano Sopra Sopra Bella 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 Morte Bella Morte E allora Gufo Piaggi i messaggi Sento tutto Ancora da sistemare tutto Ma è bellissimo Picasso Gianni Gianni E' strano Ti gioco Con i pc Di gioco Con i pc Quei non è l'altro Stifondo del gruppo Deve le cilifessate Non è l'altro Stifondo Amici di epica Tre secondi Devo vedere una cosa Lampione Non c'è No Non devo guardare Quello Devo cercare un mio amico A gioco Ma è un pc Ma non c'è amici dietro Non c'è niente Non puoi Può giocare con te Se tipo Lampione Come c'è l'ampione? Mattia Loi Se Mattia Loi Fa da centrale Si Mattia deve invitare Deve invitare Giacomo E Mattia deve invitare te Vado a giocare No No Non fa lo stesso No Mi ha invitato Mattia Loi Che era Un amico Da play Non lo faceva Tu vuoi entrare No No Non lo faceva Perché Perché D'accesso Era limitato Perché D'accesso Perché Con la playstation Non posso No Io perché All'altra volta Ho giocato Con un amico Allora C'era questo mio amico Che era sul computer Questo qua Io sono entrato da lui Lui è entrato con Giacomo E ho giocavo Ufo leggi Se piavi a scrivere Allora No Ci sono Il next box No E tu Xbox Se ti ascolto Non si possono fare Tutte le altre Giacomo Che i due Michael Ne sono No Ma Michael Ma se tu fai Tu col pc Hai un amico Xbox E un amico PS4 Sì Devi invitarli tu Però mi sa Eh Sì Eh Tu devi creare il gruppo Tu devi invitare Allora che ce la fai Non invitarti noi Ah ok Perché Lui deve fare il gruppo Lui deve invitare Perché se tu inviti a lui Ma se a lui Era con l'amico Della PS4 E tu li hai invitati No Io Io ho E Mattia mi ha Io ho Invitato a me Ma siccome Ma Mattia devi invitare Ma Mattia Eravamo nel gruppo Della PS4 Non puoi Non potevo entrare io Lui deve fare un gruppo a sé Ma Gianni c'è Come cazzo si mette la chatta Scritto Gianni Eh Devi andare su Il tuo gruppo Vai Vai in live a guardare Gruppo Vai Non c'è qua il gruppo Non posso metterlo Come no Il gruppo c'è Non c'è il gruppo Dove è il gruppo Non c'è E perché non c'è Perché non sono con altri Del Xbox Scusa C'è altri gioci Devi mettere Giordino vai nel coso Nel coso coso Ma perché se l'hai messa prima Dentro un gruppo Era già io Ah Se sei nel gruppo Devi vedere Chatti gioco Se mi senti Gianni Vabbè Vado Perché è largo Chi è Gianni E allora Non c'è fai Alla resistere Vai Partiamo i due No Non ho una squadra Che mangi Lu Non ho una squadra Non ho una squadra Ti aga gelati se vuoi No Andai solo Patattina Stiamo in tre Ciao E vai Ho cambiato Perché prima Era una squadra Con Windows 7 Cosa penso Di là di non largare Chiara ma come funziona Abbonati Tu ti abboni al mio canale Per 4.99 E hai le emoticon gratis E via dicendo Oppure Con 2 euro Compri delle gemme E fai il tipo in chat Capito Mi sostieni così Se non vuoi Buttare solo così Puoi andare in basso E si dà donazione E mi doni Capito Guarda Sono cose Per sostenere il canale Michael La empoleon Io voglio Lama E io anche me Sì Viva Empoleon Più Lama Dove andiamo Corsa Sempre Va bene Ah poi Quando entri Le mie live Per ora farei pubblicità Gli sto dicendo Poi Vio Scisor Cisiduai Blastoise Darkrai Mewtwo Pikachu Kogang Lucario Charizard E basta Gli ho messi abbastanza No no Le emotione Molte speciali Non so Non quelle Ah è una cosa Che sono più fighe Delle emotione speciali Poi lui Così non ha pubblicità Mi sostiene In due parole Eh Dio Tanto Vabbè di una figlia Le solite Delle donazioni Vanno per acquistare L'opera Il canale Eh Dicavano a me Magari Beh Adi devi sistemare E devi riprendere La web nuova E il cazzo Perché la nostra Rimane accelerata Eh Ma l'hai aperta la benzina Rimane accelerata Sì È normale La potenza La potenza La potenza Eeeh Sta per Eeeh Eeeh Oh gioco Stai arrivando Piero Stai andando a controllare La moto E' normale 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 C'è lontanissima Aveva Avrà lasciato Adesso Vinta Ci credo Che ha vinto Allora Dai Andiamo a Intrometterti Anche noi E' a morire Malamente Ti Finisco Subito Avendo l'attento Anche Aia Che male Che male Che mi ha fatto Che cos'è Questa qui Ma un cacchio Non avevano Un po' di schifo Quello Non fa più tanto schifo Adesso Che sta bene Questa Come siamo in live In due In due Finca scrive Finca se non scrive Dai ragazzi Su che vi voglio In tanti Forse gridare Ogni volta Ragazzi Dai allora Sta tornando Verde Fuori 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 Ecco Buono Viva Sta volando Tu schermo E Inizio Il pantanato Cerchiamo Di fare Qualche Skill E' persona Ah Di skill Meglio di no Cioè Non voglio morire Subito No no Checking out Checking out Che cazzo Ne so Tutto A posto Per ammazzarmela Visto che Devo giocare Più con te Che lo so Allora Finca Se non Se non Se legge Il gruppo Io Non posso Scrivere E io Ho letto Ho letto Anche Di mamma Che si Scrive Si pronuncia Scriovere Non scrivere Scusa Pink Se voglio Scrivere Molto Che cosa Dove Cercare Di Ho letto Sicuramente Sicuramente Cercare Sicuro Non avevo voglia Di stare Solo Quindi Mi sono Ammazzato Mi sono Fatta Ammazzare Aspetta 3 2 1 Sì, sì, va bene Io voglio altri emoji Qualsiamo? Due Mettiamo, visto che ci siamo Anche per spunto Aspetta Dove andiamo? A Prodo A Prodo, ma oddio Sono lontanissimo io Vabbè, tu nutta qualcosa Poi Poi fammi sapere Poi lasciami qualcosa Magari un pompa E un M4 Sto arrivando Non ce l'ho fatta io Devo per forza Atterrare ad acri Senti da dove va preso? Da dove? Da che tra il muro È impossibile Come? Vabbò, viva i bug un'altra volta Che è successo? Non so cosa potrebbe essere Piero Vieni un attimo Ho sentito Musica Siamo in live doppia Ma ci stai ostando? Sì Pink C'ha messo in hosting È bravo Grande Pink Bella Pink Casi in 5 Marco Ci sto Grande Siamo in Maron 5 Maron 5 Maron cojon Bravi ragazzi Spaccate Vado a stendere Arrivo Grande Pintra 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 Dove sarà l'altro adesso? Punto di domanda gigante Non importa L'importante è che Gli hanno colpito il pompe Sì, grazie Grazie È anche vicino Ma con l'hanno buttata almeno In tre prima ero mi segno Che cosa? Mi sa che è solo pieno Non so Il cosa? Del casco Il casco... No, l'ho venduto Non mi ricordo Cerco di farmeli dai Oggi Sì Oggi Buda è la caccia si finalmente delle bianche ore che cosa allora questo grazie mille quanti Michael? tre buono allora ma poi è schifo questo cecchino ma veramente WTF? non hai visto qua loot? è caduto malissimo poverino quello ma poverino ma poverino è caduto malissimo vabbè meglio per me a questo punto la cassa lì no? in tre ammazzali tutti si Pinca stia ammazzalo tutti solo per te ecco beh non vincerò per l'amor di dio perchè non so cosa potrei fare però magari qualcosa posso anche continuare a fare vediamo in meglio allora allora ho prurito la spalla ora ah ah mi sono andrattati più veramente bello però stai che a a e che non si poi non rosa non non rosa non rosa n non rosa non v non 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 v no non rosa Grazie. 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 Aspetta, ma è notanissima secca. Meno male con la giampa. C'è il pompa e la nuova pure è l'osso. Il pompa non mi interessa? No. E fa la scala a quelle lunghe. Non è neanche tanto, non è tanto lontano. No. 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 Grazie a tutti. Piero torna, Piero torna, sì, Piero torna! Piero, ti vuole Pincas? Mi forte Pincas ti vuole. Dimmi. Ho scritto Piero torna. Sì, Pincas, sto arrivando, aspetta che sto lavando i piatti e ho steso. Dammi il tempo che torno, torno. Torno e arrivo. Arrivo, Pincas, arrivo. Dai, bello giocato, però. No, ma, pensavo peggio. Accendo. Ma ce l'hai inglese tu, ma? No, tu? Ce l'hai inglese tu? Devi ammirare la live. Senti te? Scappano. Piero! Sì? Ha detto Pincas che devi venire qui live perché sennò scappano gli altri. Ha detto che arriva, 5 minuti arriva così. Pam! Un milione in live. Io qua ho il monitor, no, è scritto che c'è bisogno. Pincas, watching, agorano 06. Quindi, Pincas, guarda, agorano 06. Per chi non sa l'inglese, tra l'altro, anche perché tutti sanno cosa vuol dire. Watching, agorano 06. Allora, andiamo a spacciare Pinacli, sei d'accordo? Mi senti? Ah, sì, sì. Sì. Allora, dove ci buttiamo? Siamo bassi, tu sei basso? Sì, quindi qua, 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 qui, qui, in queste piazzettine, no, non più, quindi qua al bar. Eh, ok, no, buono, 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 buono. Eh, ci rincontreremo. Spero, piuttosto. Eh, io come scusa ho la trancola. Senza un'arma? Che cazzo faccio io? Sniai tu armi? Oh, po' fa l'incendario, po' fa l'incendario. Ma che culo! C'è? Che c'ho io? Ho una revolver. Ammi la, ammi la, ammi la, ammi la, ammi la. Sì. A me mi la, da. Sì, anche a me un po'. Sei tu Pinkas che scrivi male, vai a scuola devi imparare l'italiano Mi manda a puttane la live No, Pinkas che scrive male per farmi prendere in giro Allora, dai Bufo, vieni qua Vieni qua Bufo Luca, che fai? Entri in live o sei qua dietro? Allora, eccoci ragazzi, siamo tornati Andiamo qui dentro Non sai leggere, non sai leggere, animare la live, devi animarla Quella cosa c'era scritto però prima? Aia, aiuto Senza di te scappano, devi ammirare la live Eh, dai dai, sono un pollo Aiuto, eccoli Vieni Luca Grande Ciao Ho la vostra coltello Ah, brava, brava, brava Eccoci qua raga, passami un attimino la cosa Luca, per favore, passami l'italiano Attenti lì Dai su, dai su ragazzi Che vi voglio tantissimi, vi voglio milioni Ai cazzo Abbiamo ancora un po' Allora, abbiamo due messaggi a Pinkas qui su Vai via Io adesso ti funzionate il momento della posta Mi è andato comunque Qua Devo scrivere qua Perché il gay del gufo non legge e non sa leggere Ah, 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 bella pinca Ah, ah specialmente Ha scritto amminare Dove? Eh, ma si capisce che ammirare Cioè, se sei purtroppo Ammirare? Animale, stupido, brutto Tu sei un animale, sei Sei un animale Non è che lui sa leggere Oh la guida qua Oddio, oddio Animale è la life Non si legge Non sai leggere Animale è la life Animale è la life Animale è la life Animale è la life Animale 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 L-I-M-A-R-E Dai ragazzi purtroppo Non sa giocare Non sa Non sa amminare la live Non la sa animare Che clip metti dopo in casa Ma che clip Che fai merda Ho fatto clip ho fatto Da solo ero contro le squadre Si ma ero di là da lavare i piatti Che cazzo di clip faccio Ma questo è un minchione forte Questo è che ha mai live Non è la clip Eh? In culo Con che ragazzo Con che minchione urecia No ragazzi animiamo questa live Questo ragazzo mi fa Cioè Io mi faccio il culo Per arrivare in alto Voi mi stimate Voi mi seguite Che cazzo fa lui? Mi zappa sui piedi Mi fa trollare A minare Mi fa amminare A minare Oddio santissimo Benedetto Questo ragazzo Ma non vale Neanche 10 centesimi Bucati Neanche io Ma neanche uno Dove dare il negozio? Dove andiamo? Capito? Non ho cosa da mangiare Facciano E' un nabbo Sia in live In live E fa che gare Pazzesca mente Perché lagga? Io questo cazzo di lag Grazie pinca Sono arrivato a salvarmi il culo A salvarmi il culo E non annoiarvi Dov'è Real? Morto Morto? Ma c'è? Michael Sì è morto Ah ci sei ci sei Michael Anni mi metto a live Questo che è il tuo Il tuo omonimo Michael Fa cagare Ciao ragazzi Siamo in 5 Qui su questa live Vi aspettiamo tutti i giorni Venite qua A rompervi le palle con me E annoiarvi con lui Perché fa cagare il cazzo Abbiate pazienza Anche se qua giochiamo a fortnite Purtroppo E' un nabbo di me Ma è possibile Cosa è impossibile Epic Epic Ascoltami Epic Michael Di che è impossibile Guardalo Guardalo Ma lei che ti ha mangiato Mentre in volo Ma senti girato Vola Michael lassù La guarda E sto guardando Ti è girato E poi si è rigirato Ma come fai? A colpire così Dai ragazzi State in live con me Purtroppo Io devo intrattenervi Non purtroppo Perché sto minchione Non sta intrattenervi Né giocando Né parlando Cioè Fai schifo giocando Ok Ma voi intratteni parlando No ma io Se mi metto Concentrato Ti straccio Ma cosa vuoi fare? Ma cosa stai facendo? Le pippe e i pinguini? No Così fai Agli orsi Porco Giuda Ragazzi Piena C'è che tu seguono Perché sei un mito Il gufo non vale niente PINCAS Guarda lì È lì Ha scritto il gubo Schifoso No no ma PINCAS Lo puoi passare il gubo Perché tu sei talmente inutile Che darti il gufo Offendiamo il gufo Mello di dire il gubo Che sei un niente Proprio un niente Con la GN E non vali un cazzo Eh Cioè ma vuoi morire in live Pure su Twitch L'altro giorno Arriva Zitto L'altro giorno arriva È il pirisino Cosa fai tu a me? Ma lei che ce l'ha anch'io Ah ce l'ha anch'io Andava per terra Ero io che stavo Ero di là Ero il tuo mic Che tu le stai facendo Che lui ti ha perduto pericolo Ah bravo bravo Ebbè Quanto quanto manchi? Settimana manchi Ecco il caso Ma da due mesi fa Gli ho fatto No Nel scorso settimana Errori Luca Piero Eliminatelo Ah vuoi Luca? No Ha scritto A me A te di eliminare Ah Beh vedi Ho bisogno anche del supporto PINCAS Purtroppo La peglia Eliminiamo il gufo Grande grande La e compare Yeah Il compone lui Grandi ragazzi Così voglio Quando voi vedete Che la mia chat Crolla Cioè crolla Il numero Degli spettatori Dovete chiamare I vostri amici Andrà Piero Io dovevo mancare Dovevo sostenere il Piero A mille Ok È colpa di Michael Branca Non vi chiedo soldi Vi chiedo Sostenermi a mille Già grazie Mi avete fatto trovare 50 iscritti Non sento Piero Lo sento Piero Lo proponiamo Sul bacio No ragazzi Vogliamo stare più alto Perché noi piace parlare Alti Zitti No Zitto Siamo zitti Silenzio Guardate come muore No no Puoi parlare Un po' Un po' Più piano Io ho un difetto Oddio Non mi ritrovo Una scala ha messo Muori Michael Lassù Tanana Nabbo Sempre di più Tanana Scemo Più di tutta La gente Dell'umanità Muori Michael Tra le stalle Muori Michael Nella merda Tu Che puoi Diventare Gufo Michael Muori ragazzo Michael Muori ragazzo Muori un ragazzo Che E' un coglione Sempre resterà Minca Vamo la via 5 Il joy Pai con che gazzu Con che gazzu Ragazzi In sardo Vuol dire Testa di cazzo No è in italiano Non in sé Mi avete capito Quella cosa lì insomma Comunque purtroppo Quando nella vita Nascono dieci bambini E uno nasce come lui Non ci possiamo fare niente Capito Gufo vai in camera Metti il cosino Nel cassetto Metti il cazzo Nel cassetto Cosino Apre e chiudi E dimmi se Di qualche cosa Ragazzi Ve ne racconto Non ne ho cassetti In casa neanche E quel cazzo Non quel coglione Me ne racconto Una ragazzi Le metti in live Il cosino Cosa ha fatto Per farsi le seghe In doccia E consumarmi la bombola E il minchione paga E il minchione paga Te lo faccio a posta Sempre Io ti stacco la bombola Ti stacco le batterie Il reparo Ti stacco Si è preso Avete presente Quei fogli Trasparenti Per mettere I fogli I rilegatori Ha messo il cellulare Dentro il foglio Trasparente Legato con lo scotch Messo in doccia Si masturbava In doccia Cioè ragazzi Ma io mi domando Ma non puoi Dovrebbero darvi un Nobel Dovrebbero darvi No Mi consumi gas Porco disco Un Nobel Dovrebbero darvi Del minchione Consumatore Di merda Invenzione Che aiuterà Tanti ragazzi Cioè ragazzi Vi prego Se volete farvi una sega Fatevela in bagno Non consumate L'acqua Delle vostre genitori O di chi cazzo Paga Perché costa Poi Se come lui Ce l'ha piccolo Ci mette un'ora E portate una sega Cioè Ma mai avete conto La 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 Questo ragazzino Cioè Poi l'ho capito Perché dai Bomber De uno poco Chissà Come mai Cioè Minchia Pinca Veramente Lo ammazzo Pinca Solo Ammazzo Fatti Una sega Arrori Di godi Di Che lag Questa È una Dei Classici Codedi Non voglio Sprecare Munizioni Cioè Ragazzi Venite conto Il problema Con questo ragazzo Al culo Perché Non è Cioè Mi dite Questo Ma è Bombola E farsi Perché Deve Vare In doccia Cioè Ma Ma Come Cazzo Se le Ragiona Cioè Dittemi Voi Ragazzi Sinceramente Parlando Ti Vuoi Scriver Scriva Come Mi fate Sì Che Voi Cioè Io Quando Me le Facevo Come Me le Faccio Naturalmente Sto Sul Cesto Sto Ma Pure Io Cioè Me le Con Un'altra Mi Ha Consumato Mezzo Rotoli Scortex E Si È Esplodato In Faccia Cioè Aveva Tutto Il Colpo Non È C' Anche Forte Ragazzi Anche Forte Ragazzi Cioè Ragazzi Dalle Cassate Cioè Minca Ma Lo spin O Della Lidl Cioè Cosa si pede Di scopere Per farti una Sera Cioè Ma Veramente Non è Possibile Questa Questa Ragazzi Non è Possibile Vai Do No Veramente Se le fai In bagno Pink Se veramente Parole Cioè A chiedere Alla madre Dammi Una Bustina Per il Cellulare Ma pure Io Ti faccio In bagno Tranquillamente King Power Non li fai Cosa non li fai Non li faccio Non le fa Le seghe Non le fai Le seghe Bravo Non consumi Acqua di genitori Sto Coglione Mi consuma Più Acqua di Cioè Coltanto Che mi Consuma Acqua Lui Ah Io non le faccio Le seghe Bravo King Ma tu le fai Le seghe Che cazzo Dicino Chi cazzo King Ma sei Il nostro amico Su Xbox King No Non credo No perché Veramente Questo qui Assurdo Ragazzi Assurdo Ok Vuoi farti Una segra Ok Va bene Ci siamo Ma Dio Santissimo Ma mi devi Consumare Cioè Ti do la puttana Porco disco Pago meno Di bombo Porca troia Minca io Dai La mia Invenzione Siccome Non è Tanto Conveniente Fatemi Il bagno Ti sei sul cesto Dio santissimo Ok Ma non andare in doccia Ma che cosa Ma ti metterci una sul cesto Un'altra parte Ma non in doccia Ragazzo Uno è in doccia Fate una segra È bene Però da lontano Se no King Avvi pazienza Qua c'è lo sclero totale Cioè Non puoi cuarti Qua veramente Siamo allo sclero Cioè Ragazzi Se vi fate le segre Come ve le faccio No Fate come King Non fate Vole Perché Veramente Amare King Fa altro Perché magari È più furbo come dire con me è bravo king ragazze chi non so potrebbe sting of the pound potrebbe o potrebbe essere king un altro amico mio di 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 porto disco di switch porca troia no se mette se mette il polipo potrebbe essere skill no skillux il polpo lo mette sempre skillux ti chiudi ma bravo bravo pinkas no di genitori non lo vanno rapido è vero no l'altra volta l'abbiamo beccato dalla dalla porta il bagno c'è sopra il mobile ha sporcato il mobile veramente ragazzi io l'ho visto ragazzi lui è in bagno perché dice quando che caga io vado in bagno a guardarlo ed era tutto sparco ragazzi l'altra volta l'avevo era addormentato ne ha detto in sala del divano ha preso lo scottex questo è vero e si è fatto la sega e non si fa si fa ma non consumarmi tutto lo scottex questo clip ragazzi è attività che faccio la clip perché si fa la sega di ieri le sito che cosa finalmente è veramente qualcosa da essere vita sono sto sto ragazzino è veramente cioè io mi domando ragazzi mi domanda a bai che sembra la figa che non ne ha più io mi domando per lui o no c'è uno mi risponde mi serve la figa non per me per me non apposo del cazzo ragazzi veramente ragazzi io mi domanda ma come siamo messi raga come siamo messi io dico che siamo messi male c'è questo qua mi consuma la bomba e mi consuma l'armenca king power tutto a guarda no pinca si fa il bidet morto quasi c'è ma che bidet che si fa dopo pinca squad fa il bidet dopo dopo la sega ma che cazzo va si sborra direttamente in culo per farlo a lui lui l'aveva perduto pinca se lui lavora per tutto no ai culo è veramente ragazzi questo ragazzi rimango all'invito da questo ragazzino che scappolo così scappolo la safe oh oh mi chiedebbe capito d'oltre il muro da dietro la jump la jump la jump la jump king la più pazienza purtroppo qua siamo siamo veramente allo sclero dai minchi siete messi male c'è ragazzi dopo questa cosa veramente non è sì non è finita ne ne inventerà altre perché assolutamente con torta nell'ambito il masturba il masturbatorio è veramente una cosa assurda c'era veramente domando mi domando per il pisello le band ecco si si avvolge il pisello la carta igienica e perchè no? beh no nel senso c'è lo dice dov'è che me lo metto lì? si mi è confuso ma ti compro il preservativo e il preservativo almeno non mi sporchi in giro eh ma come faccio con il senso di preservativo? come senza preservativo? fai su e giù lo stai fare la sera si ma da fastidio ma l'hai provato? no eh ma c'è il liquido perchè gli ho messo in culo di scivolo ma che ne sai che di scivolo? ah beh se ce l'hai nelle tue dimensioni il preservativo naturalmente l'extra small prende la fisografia va a segre almeno non hai paura che fa figlio no veramente pinca c'è già non ti ricordi reverendo chicco quello che è se fa figlio di lui siamo messi in male se fa figlio di cosa qua? porco disco c'è un altro un altro branche in un altro michael in giro oddio ma salvatemi hai due team uno qui uno qui eh non ho fila quello non ho paura però ecco la tua ma la Emma vucaiola che abbiamo fatto raga? ma con un po' di live ragazzi poi ce ne andiamo smettiamola la dice vi diamo domani mattina se volete no in live ma con altri giochi forte nel pomeriggio a meno che non escono ad essere in bici e devo fare altro io una puttana andiamo ecco maico fa puttana anche Luca ha detto no contento davvero ma col tanto che mi consumi di bombo me la che da puttana eh con 5 euro fa un pompino non lo so al tempo era così 5.000 lire hop time grande e king power king una domanda ma sei iscritto al mio canale? penso di sì spero e se hai voglia se non sei fatto iscriviti io lo crederò sempre no ma pensavo di farlo sterilizzare lo portavo dal veterinario e mi sembra che lo sterilizza con poco prezzo no lassù lassù no no lui è stato è la 7-7 minchia errori di godidi vabbè gioca dalla mattina e la sera questo dato no king ti prego allora iscriviti al mio canale dai king grande finca sto qui sto adesso stavo un po' su per il cane ma ce l'ho per me no devi tenere per te per sterilizzarti no 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 per te king ti prego iscriviti al mio canale se ne piacciono fammi fare grande grande king stai zitto almeno non ti fai zitto stai zitto grande king minchia meno male che arrivo io gente a sera come voi c'è lui e non ci siamo tutti scappati e beh con un minicione del genere la gente c'è sei fissi figa comunque ragazzi grazie king mitico domani mattina grande pink ci sono anch'io facciamo un po' di airstone o magic seguiamo giochiamo un po' a carte per non annoiarvi e poi giochiamo un pochettino di pomeriggio a fortnight finché signori non escono non esce a livello del 6 domani ok per cui Luca domani grande minchia la mente vi ringrazio guarda ragazzi per voi una iscrizione è un cazzo e se siete già su twitch cuore amico finito per me è un'iscrizione che è successo la vostra iscrizione ma l'ho fatto anche prima vabbè siete sicuramente pincas e l'iscrizione non ho fatto comunque la cosa che per me è un'iscrizione vostra è una vostra visione e vedervi qui in like mi seguite e mi scrivete minchia veramente grande che cosa fare lo aspetta vai vai andiamo vai 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 però abbassa voglia no un figlio tu non lo devi fare che lo voglio io adesso vado dal veterinario ti farò sterilizzare per 50 euro e sarò tranquilla a vita per cent'anni minimo no per sempre perchè veramente sterilizzare te è la mia felicità che te lo dici ti ho coltello io ti ho coltello io toh Luca sono colo vivo porca droia ah si per un po' io gli andiamo ragazzi facciamo una campagna doniamo a Piero alla Goranzolo 6 per sterilizzare Michael andrebbe anche bene Michael ti faccio sterilizzare coglione ammazzalo è velocissima la sua non uscire non uscire guardiamo sei morto? povero Michael forse non ci sono guarda una parca è beato te io adesso Pinkas sto attendendo eh poi non hai soldi è vero eh è falsa i soldi più di te si fa Pinkas l'ho fatta fatta io oh ma ti parca i cuori cazzo VIVO LA FIGA VIVO LA FIGA VIVO LA FIGA non ho più voce non ho più voce non ho più voce dall'altro giorno ce l'hai fatto? stavo gridando in pulso salta rospo salta anche la rana se non salti ma anche una puttana oh le 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 comunque ragazzi dicevamo salta anche la rana se non salti se non salti Michael nooo 100 euro 100 euro facendo il bisogno di Michael veramente piccolo che mi direi grande vai ci sta Michael ci sta ci sta direte Michael ma che cazzo buttiamo soldi per sterilizzarti appunto butto soli eh uomo uomola che cazzo mese king eh grande king costa troppo sterilizzare un pollo ragazzi bella bella stai fantastici costa troppo sterilizzare a Michael Michael con 30 euro sterilizzi ma perché non ce ne ha pisello appunto danno due mattone coglione così sterilizzato gufo non fare l'egoista fatti sterilizzare per l'umanità no finca se no ha già un figlio conosci roblox si è un gioco eh l'avevo installato una volta mi ha fatto entrare il virus nel pc ho fatto scendere Gesù Giuseppe e Maria lo spirito santo e tutti i cugini volevo provare a giocarci volevo provare king ma giuro il giorno ti ricordi ho dovuto bloccare la live e sono rimasto fino al mattino alle 11 tutta la notte al lavoro e mi tocco per riformatare il pc minchia è colpa di pink no non è colpa di pink perché veramente non è colpa di pink togli i piedi va io gay tu gay tu gay tu gay tuo zio mio zio va a pularsi mi sa che roblox king è un tipo un minecraft si tipo ambientati in città che c'è le pistole tipo adesso vediamo king no guarda se riesco a scaricarlo e non mi becco il virus bestemmia no no giocherò anche a roblox con voi ma secondo me Michael è gay come Michael ce l'hai che tu ce l'hai? guarda se riesco a scaricarlo e non becco il virus ci gioco no te lo dico è sicuro appena te lo scalchi non becco gli altri giorni e ti apri subito un altro malico becco il virus questo no no non me lo becco? no guarda lo scalchi quella volta minchia si 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 c'ero quella volta eravamo in live ti ricordi Pinkas? guarda lì dai king allora tu fai una cosa come è la notifica attivata mi segui su twitch come io mi vedo su roblox mi dirai ciao oh king dirò scaricato dammi nick non l'ho scaricato ok perché se voi vi iscrivete al mio canale e avete giochi da portare nuovi io una volta ogni tanto li porto tipo oggi un ragazzo mi ha detto stavo giocando a Hearthstone Hearthstone mi scrivo da te e volevo stare con te perchè stai giocando Hearthstone e io ho chiamato a fortnite tu guarda lui si è scritto ho detto vai se hai più giocato con me giochiamo io ho molato fortnite per giocare con lui fortissimo sto ragazzo e minchia Alfred Alfred minchia quanto cazzo era forte però va bene per cui adesso ragazzi eh se avete giochi Roblox che magari eh non costano milioni di euro perchè solo non posso investire soldi per provarmi la macchina ma eh vorrei comprarmi anche eh aiutami la moto no la moto cioè no 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 ci abbiamo già eh quel altro gioco Rainbow Six vorrei prendermi però eh piano piano poi ho soccuro di giocare tipo forte col pc così con calma vi accontenterò tutti voi mi stanno accontentando a stanno tipo siamo sette in live a stare con me così io lo accontenterei con voi per cui king tenti pronto che sono accontentati posso leggermi una cosa dimmi avrai visto che sta succedendo no di cosa farmi ma non tu non la segui la tv io no perchè la troppa è mia ahahah uccidetemi ragazzi ahahah ahahah comunque ehm le mie le mie live perchè il canale comunque è mio ho mollato youtube perchè è un'emerita merda sono venuto qua a giocare molti youtube mi seguono qua perchè non piaccia di seguirmi sono intrattenimento io vi chiacchiero vi parlo e magari chi vuole può giocare con loro fortale son pollo io vi avviso eh ehm altri giochettini e mai bisogna giocarci insieme league of legend ehm earthstone magic the gutter e via dicendo mother fucker shish eschere 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 figa perchè possiamo giocare insieme volentieri ok quello è poco ma sicuro ehm io lo faccio per intrattenere voi ma non solo a guardare mai avete oh piero ce l'hai o agorano come cazzo vuole chiamarmi il mio nome è piero ma il canale si chiama agorano ce l'hai per caso questo gioco qua ok si poi con il tempo con le donazioni e via comprerò altri giochi e potrò giocare con voi adesso ehm col pc mi voglio adesso pian piano ehm acquistrò qualche festeria in più e ehm vorrei dare qualche ram in più al pc e ehm ehm non lo regge sicuro no 8 giga li regge due banche da quattro li regge no li regge no li regge no li regge si volerai giocare a Fortnite trentina di euro l'uno volerai vedere cosa giocare a Fortnite ma no potrebbe reggergli la velocità della ram ma avere una qualità ma avere una qualità di merda hai e stream di merda stream però se puoi giocare puoi provarci capito tanto Fortnite installato eh non lo toco più devo solo aggiornarlo appena fa il piccino ragazzo appunto non lo toco ok inizio a giocare a Robox ok ok perfetto King io adesso non lo installo perché l'altra volta come Pinkast che ha detto c'era anche lui ho avuto un ehm un blocco live e un virus pazzesco per cui lo installerò senza la live con calma mi cerco il sito attendibile per cui se lo scarico giuro King che trovo Pinkast o anche Michael Michael ragazzi giocando con noi quello che avete voi non è lui l'altro mi seguiva su YouTube e giocava con me io ho molti iscritti che ormai qua in live a giocare in live a giocare Fortnite adesso ho un iscritto che gioca con me a Hearthstone due iscritti che giocano con me a LOL 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 per cui ne ho ne ho e questo la mia live shh eh? ce l'hai detto? ce l'hai anche tu? e allora Michael ti volevo beccare anche su LOL buono quindi domani in casa come? di mattina anche io eh? filzano scarsi anch'io io do una forbice per stridare il bufo tutto ben accento Pinkast no posso fare così no mi porti una cincomana fragole va fuori no Pink basta prendere due due mattoncini Lego andiamo a montare lì qua adesso per fare due tiri che faccio il trappolo e cosi? lui e i testelli ecco il cazzo 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 no 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 porco di sei la stessa la vita così ti fa anche tu dai che rimbomba dai che rimbomba che è vuoto dentro questo è è vuoto dentro hai male? c'è gente davanti hai male? no tu hai fatto male bastardo ciccione di merda? perché io? perché io? perché io sempre ho male? io ho un bastardo ciccione di merda ma hai fatto male il bufo del cazzo non ce l'ho con i ciccioni ragazzi eh è lui che lo è un bastardo di merda grazie lui con lui ce l'ho a morte non ce l'ho con nessuno io non sono oberghi sta seguendo? io non sono razzista poco non è ciccione di stanno io sono razzista poco ma è morto bene io non odio nessuno se tu vuoi la casa mia roba mi il cazzo ti odio ecco se tu stai a casa tua e non fai un cazzo ti amo ma io odio tutti anche l'italiano che mi ha casa mia non mi il cazzo l'odio ma anche a te odio ma purtroppo ti ho in casa non puoi il cazzo è quello che volevo dire minchia ho senti un cazzo mio sa minchia su un momento pago anch'io che cazzo paghi tu mi consumi acqua per le seghe mi consumi scortes per le seghe mi consumi il sapone per le seghe che cazzo porti non ti lavi mai continui mi consumi la madonna stai zitto stai zitto stai zitto stai zitto si lavo un giorno si un mese no e si può essere tutti i giorni non è vero non è vero quando non giochi o se li fa che non lo voglio ne lo faccio ma sei messo male che sei messo male che sei messo male me lo voglio di farmi le seghe oddio e poi dopo mi usi di 40 euro di bombola sei andato sei andato michael ci hai abbandonato michael michael fammi una qualcosa va facciamo qualche line no 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 fammi guanto all'infinito si guanto all'infinito guanto all'infinito guanto all'infinito dopo cinquanta dopo minchia ti mando il night boat addosso dio santissimo benedetto che ti visse un crampo al culo in questo cioè stamattina aveva la pancia bla 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 ma poi mi cagava qui nella sedia e voglio ah poi appena è se fa compriamo le tessine pre-gaming eh vi voglio proprio pro vi voglio perché comunque vi riprenderò da twitch quando potete fare una live dal cellulare che voi siete in game mi voglio ti preferisco andare in moto per stare qua a giocare ma in moto andremo appena arriva la macchina in moto andremo mi sa cosa fare anche in live su twitch in moto a me si bella raga ecco andiamo da Thanos Thanos sarebbe il cugino di tones eh il fratello di tinos eh la che non lo sta facendo eh padre di tonos facendo 50 e 50 no non è quella cosa di guanto padre di tonos è un coglionino brutto bastardo padre di tonos spingati si stava faticando il cazzo per te si realizzi bastardo no tui devi morire mi da puglia e il 50 e 50 infatti che è che fa rumore sopra oh trovate piano ragazzi pazienza del sesso eh dai ragazzi facciamo questa Thanos e poi ci si becca domani mattina ragazzi no la sua casino non so come per cui facciamo qua due due partizioni ah manco ti sta smasturbando il dito ti sto pulendo i piedi ti sto pulendo i piedi era così nel dito devo comprare ma minchia ma tutti i tarzanelli di piedi del joy poi ti metti uuuuuh minchia mucchina ragazzi donata con la mia mucchina ma compratela minchia minchia ragazzi ma non lo hai da casa no cioè ragazzi vi do un euro e lo porto a casa ragazzi a pinca se le do un 10 euro io eh a pinca se le do un 10 euro e si porta mai per la casa pinca se lo vuoi oh king grazie mille ci no pinca se lo mi vuole dai zitto grazie per questa cosa ci vediamo domani mattina spero di avere roblox così lo portiamo e giocherò un po' con te oh sei gentilissimo quando sono in live se vuoi passare a salutarmi mi fa piacere così ti potrò aggiornare su roblox o su qualche altro gioco minchia che lag per cui ciao bello king alla prossima grazie ancora no non si è visto il lag proprio no io non l'ho visto un cazzo bene minchia ragazzi dai facciamo 50-50 allora chi da pinca se lo vuoi per 10 euro oppure lo vuole gratis gratis mi arriverebbe molto meglio ma il gufo te lo prendi gratis o vuoi 10 euro che ti diamo a te però non gli darei perché tanto ciao bello ciao king ciao alla prossima perché secondo me pinca se lo vorrebbe gratis quindi pinca se lo prendi 13 euro spedizione pagata da noi e poi lo sodomizza e lo bullizza che è la sua a pulire a sistemare come farebbero tutti naturalmente e gioco col figlio ciao ci sono ecco lo so che ci sei ci sono pinca se gioco con tuo figlio e mi chiamo anche quello che ti picchia ma anche il figlio è più che ti picchia non è bello e ascolta ascolta tu cioè ti picchia anche un gatto a te bevi su questo cosa a me non mi picchia un gatto mi graffia perché Alex ti picchia Jack Ingo cosa vuoi giocare? dimmi Jack Ingo? dimmi Jack Ingo su Fortnite che cosa è Jack Ingo? attivaci noi mi sembrava che Jack Ingo dovrebbe essere quel ragazzo che ha il computer e si chiama Er quella è? Er si se è lui se sei tu certo che giochiamo che culo che hai che del coglione ah no no ah si si frocio di me se non chiamerò si 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 yeah allora Jack Ingo che due secondi e ci inviti da te il mollenago è fatto un po' che cade da dal paracadute ancora e senza che si apre il paracadute e muore e guardo il mondo da Fortnite ancora un po' ti ricordi? e vado a luttare in quella casa a Rodugo e e non c'è più niente da prendere perché guarda quanto sono alti se gli spari quanto cade figa no giù giù colmi è il tuo compagno è il tuo compagno con il ragazzo non so che vola ragazzo lassù ti picca la figa cioè tranquillo già tranquillo che ci abbiamo fatta finalmente e possiamo giocare col pc e porco cane eccoci qui su Twitch agonaro 06 tra come luna sole sole oh madonna santo dai ragazzi vi prego vi prego iscrivetevi al canale donate milioni di euro che trovo la soluzione per far fuori di michael cioè devo pagare un eh generazione di soluzioni e che vuoi mettere in atto e poi è il problema ma io a me basta un colpo adesso in questo momento dici tommy in live tu fai pom finito finito e io poi lo sposto perché gioco io e poi gioca male e allora perché c'erano di soluzioni si le hanno rimesse le 50-50 c'è sempre il guanto di Thanos le 50-50 le hanno rimesse di cazzo ma adesso vogliamo portare con te va prima eravamo con un altro iscritto un altro amico ehm su PC non ti chiamare la sola non ti chiamare la sola sei un deficiente già lo sei ancora i aumenti la tua che? ma non è morto ma non è morto mi chiamare la sola è morto finito è veramente questo ragazzo è impossibile mi chiamare la sola è morto non lo è stato non lo è stato mai perché io che ti volevo uccidere ma non è possibile perché sei un gay come vuoi tu già come vuoi tu come trovi meglio mouse, gamepad come vuoi tu come preferisci con quello che sei più forte e smettila di piangere i propri coglioni senti come frulla noi questi a soffitare li chiamavamo i frullatori minchio ottimo Pinkas ti sterilizza gratis questa è una bella notizia finalmente nel 2018 qualcuno sterilizza qualcuno che mi aiuta a vivere meglio è buona è buona è buona grazie ragazzi ti sento un pen offenduto proprio ah mi chiamare non è mai che la pinta che le canzone che sfiga oh che giui tanto non la ammazziamo siamo noi a soft art tutti i minchioni senza copertura come è la canzone che fa quella quella non scappate ragazzi ci spuglio ci spuglio che si muove come si è quella canzone che fa no di pupo merda raga un po' come si chiama con la canzone ragazzi sbagliati meno si ma spora almeno il tuo nemico no è il frullatore come si chiama con la canzone ragazza come venire come come la già 1 1 ma cazzo con la canzone mia ragazzi la canzone mi viene in mente 3 4 cazzo mia la canzone mi viene minchia c'è la sua punta e la lingua mai cosa qui su di noi nemmeno una nuvola su di noi e michael e frocio su di noi se tu vuoi condannare lontano da michael perché nel culo te lo darà cos'è cos'è allora sì che hanno fatto una lega al governo se uno si segue in doccia con il cielo bene deve essere utilizzato giustissimo per cui sterilizziamo michael in doccia no età aspetta davvero cori noi due in un momento è stato solo lontano risposto su di noi nemmeno una nuvola di ragazzi telefon please fa stu ragazzi o dimmi no 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 vado io fra un po ti penso io per quello tranquillo dopo la testa un lato aspetta aspetta mea da morte già andati vero barca puttana e qualcosa per le scarpe bianche vabbè qualcuno dai ma c'è ma ce n'è la trappola ok fammi sapere io poi ho affettato per il pane tu lo prendi proprio io ok io poi ho affettato allora perfetto 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 scudatemi ragazzi vi ho perso attento che c'è la trappola però c'è gente 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 allora mi stavo vicino e non mi accorgevo di quanto puzzare anche tu minchia che lag puoi dirlo forte e tu a tu mi muzza da su a tu ti muzza da su pillona sa pillona ptia pillona vuol dire pisello ptia piccolo per cui da pirichitta pt che è piccola dunque tante pt che è tipo tante pt che è tipo tante pt che vuol dire minga tanto è piccola ma è grande ma vuol dire che ti sto elogiando ma dico c'è la mica ptica c'è che sei piccola capito va bene ragazzi oh donate facciamole un costo accelerato di 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 qualche cosa cosa qua veramente ho perso le speranze ragazzi veramente buffo anche se sei così ti vogliamo bene non preoccuparti e invece se no se c'è se ce ne vuoi tu quel giugno piero e per il nostro bene ok giacchingo stiamo arrivando e noi ti vogliamo bene ma per il nostro bene ti dobbiamo virale il cazzo arriviamo già chiesto tra un po' arriviamo perfetto se sto male tanto ne manca uno fa un po' ci vittoria reale facilissima come poi si può sapere non grazie a Michael però no vai se chi l'ha fatto dai ha dato una mano alla squadra dai ma veramente che spuglia? qualche spuglia? mi piace a Michael ok forse che lo finisce la munizione adesso andiamo ragazzi andiamo in lobby a giocare con Gia Kingo che ha un altro nome comunque Gia Gianluca Gianfranco King let's go non dire youtuber il tuo streamer ho twitch preferito già ormai youtuber per me è roba vecchia su youtube vedrai solo le live registrate qua messe lì perché tengo il canale attivo ma ormai tengo twitch a vita perché trovo gente seria gente con le palle gente che mi piace cioè veramente io gay? certo con il culo e gli altri ma con il culo di chi? no prendi di lanciare la lanciapompe la posta della pistola e ti sfaccia di quello vai 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 a te piacere potrebbe essere lì eh vai vai bravo bravo vai vai dentro va così a papà piacere lì è morto uno prima a papà piacere no il c'è spuglia insomma si puce il culetto il c'è spuglia il gusto a papà piacere piacere maria 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 ti voglio più presto scopare oh mia bella mora non so come fare mi devo vomitare oh anche bestemmone oh anche ma ma Michael nel 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 c'è spuglio si nasce per una si sega non più questo controlla ho visto qualcuno ho visto qualcuno no passate ma è questo è questo è questo è questo è questo è questo si è questo si è questo perché quello è al limite safe è al limite safe nascosto bene là giù in quei posti là oppure nell'albo no o qua dentro no non c'è è al limite safe lui è nascosto siete tutti in centro siete controlla bene lancia le granate lì in quell'albo vai 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 qui su qui su la spalla 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 ma che parte Michael che cazzo è qui in zona però l'altro si puglia l'altro l'altro laggiù l'altro o quello là l'altro l'altro l'ha fatto no no non l'hai fatto quello perché l'ha fatto no hai fatto quello sinistro si e fu il cile perfetto del Peter Gu fu il pompa perché lo mette dietro no sta in limite safe prova lì o è nascosto o è al limite safe sto qua minchia ma l'ho nascosto bene è fermo che non sta muorendo nessuno o è caduto no c'è il coppio guarda qua guarda qua la 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 quanti portini no che c'è il trappolo qua mi sa stai in limite safe c'è che penso io guarda in montagna vabbè vai dove cazzo era dai vai che c'è il coppio ti aspetta già hai un po' a pensare qua dietro sta avuto no hai vabbè la fotografia ma magari c'è quello ma è da computer lui si cosa si chiama lui è quello dimmi oh dimmi eh eccolo già jacking ti senti mi hai oh jacking parla se mi senti eh ok dove mangiare non si sente jacking già sei in gruppo pochissimo si sente parla più forte se puoi ma vedi le cammi le mani porco schifoso ti ho adorato la puzza di merda che c'hai tu puzza di merda tu puzza di merda già ci senti sentiamo lontano proprio niente avvicinate un po' il microfono magari da quando sei tu in live o hai cinque si è vero veramente tu mi portavi due arrivo io cinque sei sette otto cioè ragazzi dovevi andare via vai mi aspettate un po' per andare sto odiando Pincast lo sai no no hai ragione non intrattieni la gente non si rompe il cazzo a guardare te vai pronto a me non ti piace fare live siamo 50 con 50 dai dai facciamo dai no veramente veramente Pincast è una cosa assurda cioè è un motopic in cui un ripianto cioè oh c'è il Pincast c'è Luca lì che prende il sole vai fuori cane vai fuori cane vai fuori cane lasciala un gazzu insulta almeno prendo schiaffi eh vabbè c'è ma che devi attaccarmi i tuoi pidocchi oh e a madonna ragazze ma lo volete un mattino in casa questo qua no perché non lo resisterebbe nessuno no adesso non lo sopporterebbe eh vabbè come fai il profugo quando le alluvioni ti lavi ti fai le seghe nelle alluvioni così non ho più il cazzo bella roba davvero abbiamo set bella roba veramente picchi copertoni dove andiamo andiamo a parco no in quel cano quindi lo senti a spiagge no non lo sento quindi parlo su tutto io quindi noi andiamo avanti quindi fa tutto lui tutto lui faccio tutto io capito lui mi parla la bottiglia di coca per favore è una cingomba alla fraga poi poi ce ne andiamo guarda la spiagge trovo boschetti in questo punto c'è ragazze veramente non è posto più di questo qua su nel cielo scoppando una luna su di noi tu che puoi diventare michael michael cuore di merda michael cuore di merda con il culo che mandano con il cuore con i tarzanelli con i tarzanelli che senza paura lui lancerà perché ti consiglio noi aspettiamo tutti a te dov'è cosa guarda come spaffa lì dispetta paffa no 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 bastardo che cos'è mi rubavo le cingomba la gomma la gomma la gomma per cancellare me la fai ci stanno la vuoi la fragola la maglia è sottiatta lui come le frega ma la gravidata brava brava la fragola allora non mi piace la fragola non mi piace la fragola Houston abbiamo un problema Houston Houston abbiamo un problema troppo sperma in circolazione Houston Michael ha il problema Houston sborrare un problema Houston per Michael sborrare un problema non è vero hai problemi Michael ha problemi ragazzi qua non deve iaculare purtroppo non è iaculare l'ancio tarzanelli buona Houston è un problema risolvibile Houston passo passo Houston cazzo Houston cazzo Houston la verità ti fa male lo sai nessuno ti può giudicare nemmeno tu la verità mi fa male lo so lo so che c'ho il culo sporco non lo lavo più la verità ti fa male lo so lo sai che esiste il bidet per pulire il culo anche a te io me lo pulisco ma mo c'è la differenza tra lui e te ed ho scelto lui e tu sai perché ho scelto lui perché si lava il culo più di te non è vero nessuno c'è agli armi nessuno si lava il culo di me basta il cane così lo lecca non è vero mi lavo più di quanto penso il culo e lasciami sbarrare e lasciami insaponare io senza cellulare non so stare io io che sono chiuso dentro la doccia con il sapone degli occhi e mi masturbo al pisello e prendo l'ombrello perché il cellula si sta tutto bagnando non sta male ragazzi cambiamola prendo l'ombrello gufo al culo sporco yeah non è vero non è vero io non posso restare in doccia in disparte né arte né parte mi devo masturbare la pozza è grande beh evitela cioè se non c'è la luta questo l'avevi perso dov'è coso jacking jacking se la spiace vieni è appuntato almeno lui va a scoprire e facci vederle mutande non mi sputare nelle gambe tutte sgommate con tazzanelli di vero nel culo c'hai solo quelli non è vero tu che non puoi restare seduto sulla sedia male culetto è pieno di cacca hai le croste turgide 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 dure ai capezzoli turgidi così lui c'è lì in dentro è vero a Michael quando li toccate Michael ce li ha così a Michael li toccate i capezzoli il capezzo lo va lì in dentro no no a noi esce fuori a Michael si a mo di tirare lumache è come l'umache mette le tene dentro oh Jackie vieni con noi dai dopo questo stacchiamo la live ragazzi stacchiamo la live ci va domani mattina andiamo a comprare l'affettato la figa di Thanos di Thanos di Thanos di Thanos è una donna di Thanos è bello sì sì è una donna Thanos qua fa Thanos di Thanos di Thanos di questa oh non ha senso questa è quella cosa perché così è una specie da questo Michael se sono sporche lo vediamo no no fredda che dagli odori che emane in questa direzione cioè io puzzo ma qua c'è minchia l'ecocentro pieno del circondario ti stavo allusando ti stavo allusando era così ragazzi ma se di così ti stavi allusando venga che cadi è pessimo bastardo potene a cagare oh yeah santissima è già anche quella no sono così aspetta ma lasciami sborrare io senza mutande non so stare tranne ma l'ha fatta l'era doccia abbiamo consumato minimo la bomba è la nuova metà me l'ha fatta fuori non è vero errore di inquilidi è stato 5 minuti era pieno era mi ha lavato la goccia perché quando c'è tutto piccicoso mi mi calava la schifo per terra tutto rumido ma io che non so giocare che c'è che mi venti quanto lui è normale lo ammazzi molto bocati dov'è giacchi arriva giacchi ah ci sei bene si pinca si è messo il cellulare in una bussina di plastica per farsi la sera un video porno cioè a che livelli estremi che è arrivato non sa pensare e mo e mo e mo no che bote di culo estrema che caccia no veramente mo boomer shot ah come per saltare la rabbia a michael su e giù su e giù strano io strana questa vita chissà poi perché non l'ho mai capito a michael non piace la figa a te mi piace la figa a michael non piace la figa michael si guarda i video porno degli animali no degli uomini michael se guarda i video porno guarda il cazzo non guarda la figa no è vero lui si sega lui mentre si sega quello del video si sega lui si sega ah buona buona ma smetto anzi poi aspetto perché sei venuto ahahahah no ma che cazzo è mortale ma che cazzo mi sono 50 di vita che cazzo ma che cazzo pretendi oia ragazzi dai facciamo questa qua poi michael giocherà ancora con Jackie un cacchio no un cacchio che salta yuhuu uomini uomini da te tra beccati dietro solo 30 di scuola un altro la madonna cinghiale e io che mangio il cinghiale elimino island e mi diverto a saltare poi corro nel bagno mi faccio una peppa con cellulare in doccia non sono normale ma che ci vuoi fare mi chiamo ma che ci vuoi fare sono malato e maniaco schifoso e caldozzo tanzanello e minchione cioè capelli lunghetti mi purisco il culetto ah guardate coglioni con i tarzan e il letto ma è cosa si mette tarzan nell'altra che cazzo di chi sei un bastardo giacchi viene nella mischia vieni amici da micro così vi siamo andati a vicenda uomini da su dietro era giacchi è morto porca broia vabbè bella bella ragazzi dai andate andata su ragazzi ok alzati un po' il volume per il progetto kingo alza il volume bene ragazzi mi è piaciuta lo sento adesso torna finché ci siamo domani a quante volte volete al giorno no ma ogni tanto è un seragolo maltrattato tu dai pink a sentiamo domani a volte anche due ai belli ci siamo domani ciao grandi un bel saluto da qui il massimo è 13 grazie di tutto a domani ciao belli ciao pink a se grazie per i nuovi iscritti e ben grazie a tutti ciao